La serie Lancer di mulinelli proposta da Trabucco si è affermata ormai da alcuni anni come tra le serie più affidabili e più apprezzate dai surfisti italiani e non solo italiani. Perché? Perché sono mulinelli appunto robusti, fluidi, facili da usare, molto affidabili e resistenti, particolarmente resistenti a tutti quegli agenti che normalmente intaccano l'efficienza e l'efficacia di un mulinello. Una nuova versione, una versione ancora una volta 6500 e 8000 con alcuni miglioramenti. Innanzitutto la struttura del rotore che è in carbonio, alcune parti del mulinello sono state quindi ulteriormente alleggerite sempre con l'utilizzo della fibra di carbonio. L'archetto che è studiato per un uso pesante quindi lanci anche molto violenti che deve essere chiuso manualmente. Non può essere chiuso accidentalmente con una rotazione della bobina che può capitare quando lanciamo. A differenza del passato questo mulinello viene proposto direttamente con una seconda bobina di ricambio. Chiaramente c'è stati anche dei miglioramenti all'interno della meccanica del mulinello. Il mulinello è ancora più fluido della precedente versione quindi estremamente gradevole da utilizzare anche in condizioni di piombi pesanti. Altra particolarità la manovella. La manovella che praticamente a differenza delle precedenti versioni può essere girata al contrario e richiusa sul mulinello diminuendo gli spazi di ingombro. In definitiva mulinello molto affidabile, adatto a situazioni. La versione 8000 di surf è veramente pesante con piombi importanti nella versione 6500 in condizioni più generiche perché no anche un bici leggering abbastanza spinto. Lancer 6500 e 8000.